Allora, prima cosa, ci sono domande, qualcuna domande su l'esercizio di ieri? Lo prendo come un no, lo prendo come un no, ok. Ho ricevuto una soluzione che era quasi corretta, quindi molto bene. Facciamo un altro problema oggi, facciamo un altro problema così vediamo un po' di rifare il procedimento mentale per farlo nostro. Allora, il problema di oggi è un problema classico, nel senso che è un problema delle territoriali del 2004, che si chiama la dieta di Poldo, ed è abbastanza famoso nel circolo delle competitive programming, ed è il seguente. Allora, c'è Poldo al quale piacciono i panini, gli piace mangiare i panini. Un giorno va per una via dove ci sono un po' di paninari, ok. E sa che ogni paninaro vende un certo panino. Nello specifico, lui sa che passerà prima dal paninaro 0, poi dal paninaro 1, poi dal paninaro 2, eccetera eccetera, fino al paninaro n-1, e ognuno di questi venderà quindi questo è quanto pesa il panini, ok. Poldo vuole mangiare il maggior numero possibile di panini, però deve rispettare la regola che se mangia un certo panino, il prossimo panino che mangia deve avere un peso strettamente maggiore, per non rovinare la sua dieta. Quindi se che ne so, mangio un panino che pesa 250 grammi, ok, il prossimo panino che mangia per esempio non può pesare 100 grammi, però potrebbe pesare 300 grammi, 300 grammi va bene. Ok. Lui camminerà su questo viale e non può mai tornare indietro, cioè sa ogni paninaro quanto pesa il panino da quel paninaro, ok. E quando passa davanti a un paninaro, lui farà quindi questa strada, passa, va in questa direzione quando passerà davanti al paninaro 0, ad esempio, sa che là viene venduto il panino che pesa a di 0 e può decidere se prenderlo o non prenderlo. Puoi andare avanti così, puoi decidere se prenderlo o non prenderlo, eccetera. E appena lo prende, lo mangia. Quindi, questa è la descrizione del problema, qual è il numero massimo di panini che può mangiare? Faccio un minimo di assunzioni. Diciamo che gli a di i sono compresi tra, che ne so, pesa da 1 grammo fino a 10 alla quarta grammi e n è tra 1 e anche lui 10 alla quarta, facciamo. Ok, allora ci sono intanto domande sul testo del problema. C'è qualcosa che ho detto che non era chiaro? Sono Stefano... Stefano S. Stefano S. Se mangio un panino, per esempio, il primo panino che mangio è da 250 grammi, ok, quello dopo deve essere maggiore. Sì. Ma quindi quello dopo ancora deve essere sempre maggiore di 250 o del secondo che ho scartato? Deve essere maggiore dell'ultimo che ho mangiato. Ok. Quindi se per esempio mettiamo che, adesso faccio un esempio numerico, mettiamo che questo qua pesa 2, questo pesa 5, questo pesa 3, questo pesa 4 e questo pesa, che ne so, ancora 5. Ok. Per esempio cosa posso fare? Posso mangiare questo, ok, mangio quello da 2, mangio anche questo qua da 5. Ora questo da 3 non posso mangiarlo perché l'ultimo che ho mangiato, che era quello da 5, è maggiore. Anche questo non posso mangiarlo, anche il 4 non posso mangiarlo e anche il 5 non posso mangiarlo perché ho già mangiato questo qua da 5. E quindi in questo modo ne ho mangiati 2. Un altro modo, per esempio, è mangio questo qua da 2, salto questo qua da 5, poi mangio questo da 3, mangio quello da 4 e mangio quello da 5. E con questa soluzione, che è anche quella ottima, ne ho mangiati 4, ok? Ogni volta il prossimo che mangio deve essere strettamente maggiore dell'ultimo che ho mangiato. Bene. Ok. Cerchiamo di risolvere questo problema. Se non ci sono altre domande sul problema. Però cerchiamo di risolvere questo problema. Ok. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare per risolvere un problema utilizzando... Assumiamo che utilizziamo la ricorsione, per ora. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare per risolvere un problema usando la ricorsione? Cosa dobbiamo trovare? Caso base. Il caso base. Chi è che l'ha detto? Stefano C. Stefano C. Perfetto, Stefano C. Qual è il caso base? Caso base è F di 1 uguale a 1. Oh, ok. Allora, dobbiamo decidere un attimo poi cosa vuol dire questo 1. Per esempio, possiamo fare come ieri, ok? E possiamo dire che è quanti panini abbiamo ancora da mangiare? Cioè, quanti panini ci sono ancora disponibili? Ovviamente, se ne abbiamo solo uno, Stefano C. ci dice che la risposta è 1. Perché, ovviamente, se abbiamo solo un panino, non importa quanto pesa, la risposta giusta è mangiarlo. Perfetto. Solo per ripetere il concetto che abbiamo già detto, vi ricordo che il caso base è quel caso talmente semplice, quindi in questo caso avere solo un panino, che possiamo risolverlo in modo arbitrario. Perfetto, 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 perfetto. Ora, siamo partiti con solo questo F di 1. Non è detto che ci basti, come ieri ci servivano due parametri. Potrebbe essere che anche oggi ce ne servono 3, 4, 5, 20, non lo sappiamo ancora. Per capire quanti parametri ci servono dobbiamo farci la domanda di qual è il caso generale, ok? In quale stato ci troviamo in un momento nella risoluzione del problema? E poi come facciamo a sfruttare le informazioni di quel caso per ricondurre quel problema a caso più semplice? Stessa cosa che abbiamo fatto ieri. Ieri lo spaccavamo in al massimo L diversi problemi, più piccoli. E poi con l'operatore min li ricombinavamo per trovare la soluzione. Ok. Ci ragioniamo insieme a... vediamo un po' chi c'è disponibile. Veramente poca gente. Perché io, ricordatevi, assumo che se avete il microfono mutato, cioè se avete il microfono con la sbarretta, assumo che non possiate parlare. Quindi dai, ci ragioniamo insieme a Pietro Senigaglia. Sei in linea, Pietro Senigaglia? Sì. Ok. Secondo te, qual è uno stato generale? Cioè nel senso, cosa... che informazioni ci servono in... quali sono le informazioni che abbiamo in un certo momento della nostra soluzione? Cioè noi sappiamo che è mangiato un panino e dopo non possiamo mangiarne di peso minore o uguale. Ok. Quindi mettiamo come uno dei due operatori, come il panino che abbiamo già mangiato, il peso massimo del panino che abbiamo già mangiato. Ok, ok. Pietro fa una osservazione super ottima, fa una osservazione intelligentissima, che è questa. Allora abbiamo detto che il primo parametro è il numero di panini che dobbiamo ancora mangiare. Perfetto. Però c'è un altro parametro che ci interessa, che ci descrive lo stato di una soluzione intermedia, che ci descrive dove siamo arrivati. Una cosa è appunto il numero di panini che con cui dobbiamo mangiare, lo chiamiamo M. E poi un altro parametro che chiamiamo P, che ci dice qual è il peso dell'ultimo panino che abbiamo mangiato. Perché è un'informazione che ci serve sapere per poter fare la prossima scelta. Ok. Quindi, 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 quindi. Allora, intanto sistemiamo il nostro caso base. Ok, perché ovviamente dovrà essere sempre con gli stessi numeri parametri. Rimane comunque uno, perché il caso base non importa qual è il peso di quello che abbiamo mangiato. Già, ci abbiamo un panino. Ok, forse no, però. Forse no, forse no. In realtà, per come l'abbiamo definito, perché cosa... qual è la domanda a cui risponde questa funzione? È, se ci rimangono ancora M panini, ok, e l'ultimo che abbiamo mangiato aveva peso P, quanti ne possiamo ancora mangiare al massimo? Questa è la domanda a cui F risponde. E questo non è più un caso base adesso. Perché non è detto che se ne abbiamo uno, se c'è questo P, allora riusciamo veramente a mangiarlo. Non è detto, non è assolutamente detto. Allora vi propongo, come caso base, e qua credo che mi davete ragione, che se ce ne rimangono zero di panini e l'ultimo che abbiamo mangiato aveva peso P, la risposta è zero. Questo dovremmo essere tutti d'accordo, faccio un po' meglio questo zero. Questo dovremmo essere tutti quanti d'accordo che è un caso base. A questo punto il peso diventa veramente ininfluente perché abbiamo zero panini da mangiare e quindi ovviamente la risposta deve essere zero. Ok? Bene, 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 bene. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare il passo generale, dobbiamo trovare il caso generale. Come spaccare il problema in sottoproblemi. E come facciamo? Lo facciamo nel modo in cui abbiamo detto sempre è se abbiamo delle scelte, ok? Proviamo tutte le scelte, dobbiamo prima vedere quali sono tutte le più scelte possibili. Dopodiché proviamo tutte quante le scelte, ok? E prendiamo quella che ci fa più comodo, prendiamo la scelta migliore. Quindi, Stefano S, puoi parlare? Sì. Stefano S, quali sono, ok, quindi ci rimangono i miei panini da mangiare e l'ultimo che abbiamo mangiato pesava P. Quali sono le scelte che possiamo fare adesso? Beh, vedere il prossimo panino e valutare. Beh, dipende. O vedere solo il prossimo e andare avanti così, oppure per trovarla migliore e sapendo, avendo detto che Poldo sa i miei panini. Allora, è vero che Poldo li sa tutti, ok? È vero. Ma facciamo che abbiamo paura dell'ignoso in questo momento, facciamo finta che non lo sappiamo com'è il futuro, ok? Non sappiamo cosa succederà in futuro. Solo come convinzione nostra per ora. In questo momento Poldo si trova davanti al n-m-esimo, se non sbaglio, perché se ne mancano m sei davanti al n-m-esimo, paninaro. Lui è là davanti, ok? E è cosciente del fatto che l'ultimo che ha mangiato pesava P. Quali sono le scelte che può fare a questo punto? Andare, cioè, mangiarlo o saltarlo. Ok, può sempre fare entrambe queste scelte? Beh, no, mangiarlo non può farlo sempre. Ok, mangiarlo non può farlo sempre. Qual è la condizione per cui può mangiarlo? Se il peso è maggiore di quello precedente. Se il peso di questo qua è maggiore di P, dell'ultimo, non del precedente precedente, ma dell'ultimo che ha mangiato. Sì, del precedente mangiato. Perfetto. Quindi, ok, perfetto, in realtà abbiamo già trovato la soluzione. Perché? Quale sarà il valore di f di mp? Beh, se il peso del paninario in cui ci troviamo in questo momento. Quindi se a di n-m, ok? Perché se tipo ci mancano ancora n paninari, vuol dire che siamo allo zeroesimo e infatti n-n fa zero, ok? Se quindi il peso del paninario n-m è minore uguale di P, e allora non ci abbiamo tante scelte. La soluzione, non possiamo fare altro che saltarlo. Quindi, andiamo al prossimo con lo stesso numero di mangiati con il peso dell'ultimo mangiato. ovvero F di m-1, quindi questo l'abbiamo saltato, virgola P. Andiamo al prossimo, ok? Con il peso dell'ultimo mangiato, perché questo qua l'abbiamo saltato. Perché non potevamo mangiarlo. E quindi l'abbiamo saltato. Altrimenti, altrimenti cosa dobbiamo fare? Dobbiamo decidere, dobbiamo decidere se mangiarlo o se non mangiarlo, ok? E come facciamo a dire queste due cose? Intanto mettiamo di farle, quindi le simuliamo entrambe. E qual è quella che vorremmo fare? Vogliamo fare quella che massimizza il numero di panini mangiati. Quindi, altrimenti, io voglio prendere il max tra cosa? Tra o non lo mangio, quindi se non lo mangio, allora la soluzione sarà F di m-1, virgola P. Perché non l'ho mangiato. Oppure, cosa sarà? Sarà, vado al prossimo, m-1, però il peso dell'ultimo mangiato ora, non è più P, ma è A di n-m e poi questa funzione ci mettiamo più 1. Perché l'abbiamo mangiato. Quindi abbiamo aumentato di 1 la soluzione. Altrimenti. Ok, è chiara questa cosa? Sì. Ok, è lo stesso identico ragionamento che abbiamo fatto ieri per l'altro. Cioè, è il ragionamento standard della programmazione dinamica. Quindi, caso base, ok, se abbiamo 0 panini ancora che possiamo prendere indipendentemente da qual è il peso dell'ultimo che abbiamo mangiato, fa 0 questa cosa. Non ne possiamo mangiare, ovviamente. Se invece ce ne mancano ancora m, ok, l'ultimo che abbiamo mangiato aveva peso P. Allora, allora, cosa facciamo? Beh, se il peso di quello attuale, di quello in cui ci troviamo in questo momento, è minore uguale a P, eh, non possiamo prenderlo. E quindi, per forza di cosa, andiamo al prossimo, a mani basse così, non possiamo fare nient'altro. Altrimenti abbiamo una scelta. E quindi scegliamo tra la cosa migliore, che è in questo caso il max, tra non prenderlo e andare al prossimo, oppure prenderlo, aggiornare quindi il peso dell'ultimo mangiato e andare al prossimo. A questo punto ci manca un'ultima cosa da fare, che è qual è l'invocazione della funzione che risolve questo problema. Perché noi abbiamo fatto il caso base, abbiamo fatto il passo generale, ma ora dobbiamo invocare questa funzione con i parametri del problema per risolverlo. Beh, all'inizio avremo n paninari da cui scegliere, quindi n. E qual è il peso dell'ultimo mangiato? Beh, all'inizio non abbiamo mangiato nessuno, sappiamo che tutti quanti i panini pesano almeno un grammo, quindi possiamo dire che l'ultimo mangiato pesava zero. Quindi f di n zero è la soluzione del nostro problema. Bene. Domande fino a qua? No, ok. Ora, ora, dobbiamo stimare la complessità. Ok, dobbiamo stimare la complessità. Vediamo un po', chiamo anche gente che ce l'ha mutato, se entro tre secondi non mi risponde assumo che non può parlare. Tipo Luca Falco. Sì. Perfetto. Allora, Luca Falco, come calcoliamo la complessità computazionale di questa cosa? Allora... Beh, consideriamo la funzione max come un'operazione, no? Quindi, cioè, dovremmo sapere quanto è complessa l'operazione di comparazione tra le due funzioni, o sbaglio? Ok, allora, ovviamente, ottima osservazione, io ti dico che fare il massimo di un numero costante di argomenti ci mette tempo costante. Che vuol dire? Qua sto facendo il massimo tra due cose, ok? Giusto? Sto facendo il massimo tra questo e questo. Ti dico che fare il max tra due cose costa o grande di uno. Ok, quindi in pratica come somma, sottrazione, eccetera. Esattamente, sì. Ovviamente se dovessi fare il max tra n cose mi costerebbe o grande di n. Come fare una somma di n cose? Se faccio una somma di n cose mi costa o grande di n. Se faccio una somma di due cose mi costa o grande di uno. Perfetto. Però quali sono, come la calcoliamo, cioè quali sono i due pezzi da trovare per calcolare la complessità di questa funzione? Sinceramente non è che mi vengano granché in mente. No, vabbè. Allora, ricordiamoci che per calcolare la complessità di una funzione di programmazione dinamica, ok, dobbiamo moltiplicare la complessità del passo generale, ok, per il numero di stati possibili. Quindi, prima cosa, che è quella più semplice, qual è la complessità del passo generale? O di uno. O di uno? Esattamente. Perché? Beh, qua stiamo facendo un'unica sottrazione, ok, che è o grande di uno. Questa stiamo facendo una, due sottrazioni, una somma e un massimo tra due cose. Sono tutte quante operazioni che ci mettono o grande di uno, quindi la complessità del passo generale è o grande di uno. Perfetto. E questo era il primo pezzo. Il secondo pezzo è ora, quante funzioni verranno chiamate? Quante possibili funzioni ci sono? Cioè, per funzioni intendo ovviamente quante possibili parametrizzazioni di questa funzione ci sono? Allora, beh, sicuramente dipende da n. E all'aumentare di n... Non lo so. No, ok, no, ma va benissimo, va benissimo non saperlo. Allora, ricordiamoci come si fa questa cosa. Allora, intanto diamo dei nomi. N va bene. E diamo anche un nome. Do anche un nome al massimo degli adi, ok? Il massimo degli adi lo chiamiamo c, va bene? Diamo un nome a questo massimo degli adi e lo chiamiamo c. Allora, vogliamo sapere quante possibili invocazioni di questa funzione verranno fatte. Ovvero, vogliamo sapere i parametri della funzione e come possono variare. Ci abbiamo due parametri, ok? Quindi il numero di modi in cui possono variare i parametri sarà il prodotto di come può variare ogni singolo parametro. Qua ne abbiamo due, quindi sarà il prodotto di in quanti modi può variare il primo parametro per in quanti modi può variare il secondo parametro. Analizziamo questa cosa, faccio un altro tentativo, vediamo con Stefano C. Allora, M può variare in N modi, direi. Ok, per essere, se non vuoi essere preciso, perché sarebbe un n più 1, se non vuoi essere preciso puoi anche dire un grande di N. Un grande di N, va bene. Perfetto. Mentre il P può variare in... beh, non so, non può variare, ma non lo so, però così a Naso mi viene da dire che non può variare in N modi anche lui. Allora, P è una roba un pochino più delicata, ok? Perché? Allora, intanto ricordiamoci cos'è quel P. Quel P, per forza di cose, per forza di cose deve essere o 0, perché è il valore iniziale che diamo a P, ok? Oppure, qua prende ancora il P precedente, quindi ancora può essere o 0 o un altro P. Qua ancora è il P precedente. Qua è uno dei valori. Quindi gli unici valori che potrà mai avere P sono o 0 o uno degli A. Per forza, perché 0 e A di N meno M sono le uniche due cose che ci posso mai mettere dentro quel P. Quindi, per forza di cose, P deve essere una di queste due cose. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che questo P dovrà essere per forza tra 0 e C. Ok? Dovrà essere per forza tra 0 e C. Perché se le uniche due cose che ci possiamo mai mettere dentro sono 0 e un qualche A, e gli A vanno tra 1 e C, perché C l'ho definito come il massimo. Quindi, vabbè, poi C sta il massimo di C alla quarta, però, insomma, tra 1 e C. Allora vuol dire che P può avere i valori che vanno da 0 a C. Ma allora i possibili valori sono o grande di C. Ok? Quindi il numero di possibili parametrizzazioni sono o grande di N e C. Allora la complessità, diciamo il prodotto, è o grande di N e C. E facciamo i conti come al solito. 10 alla quarta per 10 alla quarta fa 10 all'ottava, perché è il massimo che possono valere sia N che C. Ok? E 10 all'ottava è esattamente uguale al famoso 10 all'ottava che ci avevano detto, quindi C metterà circa un secondo a eseguire questa cosa per questo problema. E quindi C va bene. Ma non ho capito perché C. Allora, C intanto, come è definito? È definito come il massimo degli A di, ok? Quindi questi A di saranno, che ne so, 7, 20, 12, 54. E C lo definiamo come il massimo di questi. Fino a qua ci sei? Sì. Perfetto. Ora, P, il parametro P, che valori potrà avere? Quali saranno i possibili valori di questo parametro P? Saranno o 0, perché è come lo chiamo all'inizio, all'inizio chiamo proprio F di N 0, quindi 0 è un possibile valore di P, ok? Ma quali sono gli altri possibili valori che può ottenere P? Qua, in questo caso, mettiamo il puntatore, ok? In questo caso sta prendendo il P precedente, quindi non stiamo aggiungendo nuovi valori a P. In questo caso prende ancora il P precedente, quindi non stiamo aggiungendo nuovi valori a P. L'unico posto in cui stiamo mettendo nuovi possibili valori di P è questo, ok? Quindi i possibili valori di P quali saranno? 0, che è quello iniziale, e poi possibilmente questi A di qualcosa. Ma abbiamo detto che il massimo di questi A è C. C è definito così, è definito come il massimo di questi qua, va bene? Ma allora quali saranno i possibili valori che può ottenere P? E per carità questa qua è una sovrastima, non è una stima precisa. Dunque la stiamo sovrastimando, potrebbe essere di meno. Ma al più, sicuramente, non possono essere che nel range tra 0 e C. Hai capito il mio argomento Stefano? Sì, credo sì, meglio. Facciamo così, ripetimi te questo argomento. Cioè dimmi qual è ora in questo momento la tua intenzione del perché questo qua è uno grande di C. perché lo stato di P può essere, va bene, 0, oppure può essere cambiato e può assumere tutti i valori tra 0 e C sicuramente non di più perché assumendo tutti i valori tra 0 e C si prendono in considerazione anche quando assume A1, A2, A3, A2, 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 A2. Cioè, allora il fatto è questo. Può mai capitare che P assumerà come valore C più 1? No. Perché no? Perché non esiste un panino che pesa C più 1. Perché non esiste un panino che pesa C più 1. Esattamente. Questo è il motivo per cui ce ne sono, per cui al massimo può essere un grande di C. Perché i valori possibili sono da 0 a C. Perché C è il peso del panino che pesa di più. E quindi non è possibile che P sarà mai C più 1. Perché per P essere C più 1 vuol dire che abbiamo mangiato un panino che pesava C più 1. Ma un panino che pesa C più 1 non esiste? Ok? E quindi questo è il motivo per cui P ha una variabilità di O grande di C. Nello specifico in realtà varia tra 0 e C. E quindi prodotto degli argomenti, cioè prodotto della variabilità degli argomenti, moltiplicato per la complessità della transizione di stato, e abbiamo la complessità finale O grande di N e C. Ok, ci sono altre domande? In caso scrivetela anche in chat, leggo anche la chat. Ok, bene. Facciamo un altro. Facciamo un altro. Ok, facciamo un altro classico. Facciamo un altro classico. Sto pensando alla metafora perché il problema ce l'ho, ma voglio avere una metafora carina. Allora, mettiamo che siete in un negozio di dolci, ok? E questo negozio di dolci è specializzato in collane di orsetti gommosi. Va bene. sapete che in questo negozio c'è una lunga linea già fatta di orsetti gommosi, ok? Che è lunga N. Quindi c'è questa linea che avrà l'orsetto gommoso 1, il 2, il 3, eccetera eccetera, fino a l'N-1, ok? e ognuno di questi orsetti gommosi sarà di un certo colore diverso. E per ogni colore voi avete assegnato una certa bellezza, quanto vi piace, quanto vi piace quel colore. Quindi, ad esempio, questo qua avrà un fattore di bellezza di 0, questo è un fattore di bellezza di 1, di 2, di 3, eccetera eccetera, fino a A di N, N-1, ok? Ehm, bene. Questi sono i fattori di bellezza. Quello che volete fare è comprare una collana di orsetti gommosi e per farlo quello che potete fare è chiedere al commerciante di fare due tagli in modo da prendere un pezzo di questa corda di orsetti. Quindi, se per esempio avete, che ne so, 2, meno 1, questi sono i fattori di bellezza, 3, meno 5, 4, 2, 6, meno 1, ok? Mettiamo questo qua, è la cosa. Potete chiedere al commesso di tagliarvi un pezzo continuo di questa corda, quindi per esempio, che ne so, possiamo prendere questo pezzo, oppure possiamo prendere questo pezzo, oppure possiamo prendere questo pezzo. La lunghezza è indifferente, ok? Possiamo prendere anche tutto questo pezzo, va bene. E volete prendere il pezzo continuo, quindi, che massimizza la somma delle bellezze. Questo è il problema. Facciamo che possiamo fare che n è, ad esempio, non lo so, ma per ora facciamo che n è compreso tra 1 e 10 alla quarta, anche qua. E poi vediamo cosa ne esce. Ok, è chiaro il problema? Sì, è chiaro. Ok, il problema è chiaro, perfetto. Bene, soliti step. Primo step, trovare il caso base. Caso base, caso base, caso base, ce lo prova a dire Pietro. Pietro, sei con noi? Mi sa che Pietro non è tra di noi, allora ce lo dà Stefano S. Il caso base sarà quando non ho... Ma, aspetta, scusa, tu non lo mando io. Sì. L'ho pensato adesso, ma il pezzo continuo cosa hai inteso? Cioè, nel senso che non puoi prendere tipo, che ne so, 3, 5 e 2, 6, ok, perché c'è un buco in mezzo. Devi prendere un pezzo continuo, cioè nel senso tipo da 3 a 6, questo intendo che il pezzo continuo. Ma può essere vuoto il pezzo? Sì, sì, può essere vuoto. Puoi prendere anche il nulla, in questo caso ovviamente guadagni 0. Cioè, la bellezza è 0. E il caso base sarà che prendo tutta n? Cioè, se faccio così vuol dire tutto n? Eh no, perché considerare tutta n è il problema in sé. Cioè nel senso, allora, magari ancora prima del caso base forse è buono farsi qual è la domanda a cui stiamo cercando di rispondere, ok? Per esempio, scusatemi un attimo perché almeno così siamo un pochino più rilassati invece di 10, facendo 10 alla terza, ok. Allora, dicevo, intanto dobbiamo farci qual è la domanda, ok? Tipo, la domanda prima è, la domanda del problema di prima era, se ci mancano ancora m paninali da visitare e abbiamo mangiato un panino pesante P come ultimo panino mangiato, qual è il massimo noi panini che possiamo ancora mangiare? Qual era la domanda, ok? A cui cercavano la risposta. Quindi prima ancora magari forse è bene farsi qual è la domanda per questo problema. Perché poi, una volta che c'è la domanda, il caso base è qual è un'istanza del problema che è talmente semplice che rispondere a quella domanda è banale? Beh, allora che, cioè, è il solito che non ci siano corsetti? Eh, in un qualche senso, in un qualche senso, una domanda che ancora non sappiamo esattamente com'è parametrizzata, dovrebbe essere 3, adesso ne ho fatti 3 giusto per avere un numero qualunque, non ho detto che sia in 3. Però è quella domanda che in qualche senso è, se non abbiamo niente, ok, allora la risposta è 0. Mi pare abbastanza positivo, cioè, mi pare abbastanza buona questa cosa. Ok, quali sono i dati che ci servono, però, per fare questa cosa? Cosa ci può interessare come stato del problema? La domanda la sto facendo a tutti in questo momento, se qualcuno ha idee, le dica. Giusto, sbagliate che siano. Magari cercare di, cioè, perché non ho capito qual è la limitazione, cioè, per esempio, non posso prendere 1, 2, 3, Cioè, allora, il problema è questo, io devo prendere una sequenza contigua, ok, tipo questa, o tipo questa, ok, non posso prendere tipo così, ok, perché c'è un buco in mezzo, ci sto lasciando un buco in mezzo. Questa è l'unica limitazione. Una domanda, che magari, non so se qualcuno si è fatto o no, ma una domanda è, perché la risposta non è sempre prenderli tutti? Perché non mi conviene sempre prenderli tutti? Mettete questo caso qua, tipo, che so, meno 1, meno 3, 2, meno 5. In questo caso, se li prendo tutti, quanto viene la belletta totale? Cioè, la somma, quanto viene la somma? Viene, tipo, meno 8, meno 9, meno 7, ok? In questo caso, se la mia sequenza che prendo è questa, allora la risposta è meno 7. Esiste una sequenza migliore? Esiste una sottosequenza contigua migliore? Non prenderne nessuno? Prendere 2. Prendere 2? Perché se non ne prendo nessuno, abbiamo detto che la risposta viene 0, ok? Se non ne prendo nessuno, la bellezza totale è 0. Ma qua, la cosa migliore è prendere solo 2. Se prendo solo 2, la bellezza totale è 2, ok? Io intendevo migliore di meno 7. Ah, no, vabbè, sì. Prendere nessuno è migliore di meno 7. Ma io sto eseguendo la migliore in assoluto. Cioè, stiamo eseguendo la maggiore? Ok, io non avevo inteso che quelli fossero di meno. Pensavo che fosse il trattino e pensavo che dall'interno di continuo fosse, per esempio, tra 1 e 3, ma nel continuo. Ah, ok, no, scusatemi, scusatemi. Questi sono dei meno. Ok, questi sono dei meno. Meno 1, meno 5, meno 1, eccetera. Ok, adesso il problema è chiaro? Sì, a me non è sì. Ok, 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 pardon. Questi si sono dei meno. Gli A possono essere... Gli A di I sono proprio dei numeracci. Sono compresi tra meno... Facciamo tra meno 10 alla 9 e 10 alla 9. Ok, sono dei numeracci enormi. Negativi, positivi, c'è di tutto. Ok. Quindi, detto ciò... Un caso base che abbiamo trovato, abbiamo detto che se prendiamo una sequenza vuota, tipo così... Ok, prendiamo il nulla, il nulla lo possiamo prendere qua e possiamo prendere anche qua il nulla. Possiamo prenderlo dove vogliamo, il nulla. Prendere il nulla costa 0. Cioè, non costa 0, perdono. Ah, a parte che costa anche 0, ma ci dà 0 come bellezza. Bene. Vogliamo trovare questa funzione, intanto? Vogliamo trovare qual è la domanda? Qual è una buona domanda che ci possiamo fare? E quanti orsetti ci sono sulla collana? Allora, vi ricordo di nuovo le domande che ci siamo fatti prima, ok? Perché sono domande a cui dobbiamo... Cioè, nel senso, la domanda che ci facciamo, tendenzialmente, vogliamo che la risposta a quella domanda sia la soluzione. Cioè, fare quella domanda con dei parametri, con dei certi parametri, ci dà la soluzione. Che è quello che abbiamo fatto anche prima. Prima, abbiamo detto che f di mp è... Se ci sono ancora m paninari da visitare, e l'ultimo panino che abbiamo mangiato pesava p, quant'è il numero massimo di panini che possiamo mangiare? Questa era la domanda. F di n0, ok? Era una parametrizzazione di quella domanda che ci dava esattamente la risposta. Quindi vogliamo trovare una domanda, ok? Che, primo, per una qualche parametrizzazione o per una qualche trasformazione, insomma, ci dia la risposta al nostro problema. E, secondo, che sia fatta in modo che possiamo poi spaccare il problema in sottoproblemi e poi ricomporlo per trovare la risposta. Alla fine è questa la parte difficile di risolvere i problemi in generale. Cioè, questa è la parte creativa. Qua non c'è uno schema rigido di come fare le cose. Qua bisogna avere un po' di fantasia, insomma. Magari salvarsi il singolo maggiore e provare a vedere se ci sono delle combinazioni più alte? Non mi è chiaro cosa stai dicendo. Cioè, non mi è chiarissimo cosa intendi. Per esempio, se prendere, per esempio, se non ci fosse quei 4 e quei due vicini, no? Quei 4 non ci fosse. Il 6 singolo sarebbe, potrebbe essere la combinazione più alta al posto che prendere magari 3-5 e 2. Cioè, vedere se un singolo orsetto può essere più alto di una combinazione di orsetti. Ma è una domanda questa? No, e dico, cioè, la mia idea era prendersi come parametro il singolo maggiore e vedere la combinazione più alta. Cioè, se riesco a superare la combinazione, con una combinazione il singolo più alto. Beh, allora... In un qualche senso, sì, quello che vuoi... Cioè, nel senso, ovviamente in un qualche senso... Stiamo cercando la... Che poi, combinazione tra molte virgolette, perché non è che possiamo prendere arbitrariamente sti orsetti. Dobbiamo prendere una sequenza contigua. Quindi, combinazione fino a un certo punto. Cioè, nel senso, non vogliamo valorizzare questa combinazione come un insieme di indici che stiamo prendendo. Perché non possiamo farlo. No, no, ho detto combinazione perché mi veniva sequenza. Come, esatto. Ok, ok. Ma, quindi, domanda, come indicheresti una sequenza di elementi? Cioè, se io ti do degli elementi, ok, e mi vuoi indicare una sequenza, te come fai normalmente a indicarmi una sequenza? O ti do i valori o la posizione di quei valori? Allora, facciamo così. Se io ti dico... Metti che tu stai parlando di una sequenza e vuoi descrivermi questa sequenza, vuoi dirmi questa sequenza qual è. Mettiamo che è questa qua che ho indicato nella cosa. Come me lo diresti che è questa? Elencando di valore. Quindi, dimmelo proprio. Cosa mi diresti? 3, meno 5, 4, 2. Ok. Qualcun altro viene un modo più efficiente di dirmi qual è la sequenza? Perché adesso era questa, ma metti che la sequenza fosse stata una roba oscenamente lunga. Ok. Mi diresti ancora 3, meno 5, 4, 2, 6, meno 1, papim, pupum, così avanti? Direi dal terzo al... 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 Sì, mettiamo che è il k-esimo. Mi diresti dal terzo al k-esimo, giusto? Ho sentito un mezzo sì, ok. Ok. Quindi, il modo più naturale ed efficiente di indicare una sottosequenza contigua, ok? Mettiamo che qua ci sono gli indici, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, così via. È, secondo me, ma, cioè, confido anche per voi, dire dall'elemento 2 all'elemento 6, ok? O da... O un altro modo equivalente è dall'elemento 2 5 elementi, cioè, o partenza e arrivo, cioè, o inizio e fine, oppure inizio e lunghezza. Perché queste qua sono entrambe due descrizioni per cui ci bastano due numeri, ci bastano solo due numeri per descrivere una sottosequenza contigua in questo modo. Invece, negli altri due modi che avevi detto te, cioè, dire gli elementi e dire gli indici, invece, devi dire tanti numeri, quanti sono e quanta è la lunghezza della sequenza. Ok, quindi, attenzione, abbiamo appena trovato una descrizione efficiente per fare... per avere una parametrizzazione di una sottosequenza, ok? Possiamo scegliere una delle due, o inizio-fine o inizio-lunghezza, ok? Facciamo inizio-lunghezza, facciamo la convenzione inizio-lunghezza, ok? Quindi se io voglio parlare di una sottosequenza, ok? Ne parlo in termini di la sottosequenza che inizia l'indice tot ed è lunga tot, ok? Bene. Alla luce, adesso devi avere questo modo di descrivere le sottosequenze. Riusciamo a trovare una domanda la cui risposta per una certa parametrizzazione è la risposta al nostro problema? Mi sentite? Sì. Ok. Io direi che la soluzione migliore per una certa sequenza che finisce, per esempio, fino al quarto, è la soluzione migliore, è il massimo, tra la soluzione migliore che finisce al terzo e il quarto stesso. Allora, allora, abbiamo fatto... Il funzione migliore che finisce al terzo più il quarto e il quarto stesso. Allora, abbiamo fatto una marea di step, abbiamo saltato una marea di step, a parte che... A parte che, in realtà, allora, è una buona idea, ma non è l'idea giusta, però è una buona idea, è una buona idea. Prima di quello, prima di quello, prima di quello, la domanda, qual è la domanda? Qual è la domanda? È la prima cosa che vogliamo trovare, perché il fatto è che, allora, nel senso, quando i problemi sono banalotti, saltare tutti quanti gli step e arrivare subito in fondo e trovare subito la soluzione, molto spesso si fa, a seconda anche dell'esperienza che uno ha. Ma quando i problemi sono tosti, seguire gli step mentali, quantomeno, seguire gli step mentali, che poi magari uno li fa anche in un secondo, cioè, nel senso, è abbastanza importante per non perdersi. Perché, per esempio, adesso te hai dato un'idea, ok? L'idea era... è il passo generale, quello, per esempio, il passo generale era, se abbiamo una sequenza di lunghezza tot, la risposta migliore sarà o quello o levo l'ultimo e faccio quello là. Funzionerà, non funzionerà, beh, in realtà te lo dico, non funziona. Però non è così scontato accorgersene, perché comunque farsi quella checklist mentale di tutte quante le cose che ho detto è utile anche per capire se non... Perché poi, se ci viene in mente un'idea e questa idea è sbagliata, non sempre il codice che dobbiamo scrivere per implementare questa idea sono due righe. Magari sono centinaia di righe di codice per implementare un'idea e, ovviamente è capitato anche a me, è capitato a tutti, scrivere il codice di un'idea sbagliata, arrivare in fondo, magari perdere pure il tempo a debaggarlo, aver perso un'ora e poi rendersi conto che il codice, cioè che l'idea era sbagliata, è veramente uno dei modi peggiori in cui si può perdere tempo. È molto importante avere prima consolidate le idee, prima di iniziare a scrivere codice. Quindi è importante per non perdere tempo, per avere un utilizzo efficiente del tempo, seguire gli step. Sì, sì, certo. Ok. Era un'idea. Sì, sì, no, ma ripeto, va bene, però questi qua... Allora, nel senso, poi ognuno in gara fa quello che vuole. Questi sono i miei consigli per... Questo è quello anche che faccio io, per cercare di sfruttare il tempo che ho in gara nel miglior modo possibile. Per evitare di avere cose che mi fanno perdere tempo più avanti. Allora, quindi, detto ciò, stiamo cercando la domanda. Siamo allo step che stiamo cercando la domanda. Qual è, quindi, a fronte del fatto che abbiamo ora una descrizione, ok, sappiamo che possiamo descrivere una sottosequenza, come il punto di partenza e la lunghezza della sottosequenza, ok? Qual è una domanda che possiamo porci, ok, la cui risposta è la soluzione del problema? Ok, ve lo dico io. Magari la somma deve essere... cioè, il mio valore deve essere maggiore di zero. Stiamo cercando la domanda, non stiamo cercando come rispondere alla domanda. Stiamo solo cercando la domanda. Non sappiamo ancora come rispondere, per ora non ci interessa neanche. Stiamo solo cercando qual è la domanda a cui vogliamo rispondere. Ve la spoilerò io. Ve la spoilerò io. La domanda è Se abbiamo, se abbiamo una sottosequenza che parte da, chiamiamolo, chiamiamolo M Ed è lunga L Qual è la sottosequenza massima di questa sottosequenza? Cioè, qual è la sottosequenza contigua massima di questa sottosequenza contigua? Ovvero, se noi limitiamo il problema, mettiamo che M sia 1 ed L sia 3, ok? Se noi limitiamo il problema solamente a questo sottosequenza di questo sottosequenza contigua di questo pezzo che possiamo avere? In questo caso la risposta è solo 3, ok? Perché questa domanda ci è utile per quello che abbiamo detto finora? Perché se noi avessimo la risposta a questa domanda con F di 0 N F di 0 N è tutto, ok? E quindi la risposta a questa domanda con questi parametri è la risposta al problema Fino a qua ci siamo? Avete capito qual è la domanda a cui stiamo cercando di rispondere? Quindi i parametri sono M e L che sono M cos'è la... M è il punto di partenza E L è la lunghezza E L è la lunghezza Della sottosequenza Del pezzo che stiamo considerando in questo momento? Cioè noi... La domanda è Se noi considerassimo solo il pezzo che inizia da M ed è lungo L Ok? Se noi consideriamo solo quel pezzo Va bene? Qual è la sottosequenza... La... Qual è la sottosequenza massima? Cioè qual è la sottosequenza contigua di valore massimo? Ok? Questo è il sottoproblema Va bene? E sarete d'accordo, spero Che se ci facciamo questa domanda su Quella che parte da 0 D lunga N Ovvero tutto Allora stiamo risolvendo il problema Con questa domanda Ok A questo punto A questo punto Ci interessa Ci interessa capire Qual è il caso base Ok? A fronte di questa domanda Quale può essere il caso base? Ad esempio Sicuramente Un caso base Che è quello che avevamo detto prima È che non importa da dove partiamo Se la lunghezza è 0 Allora la risposta è 0 Ok? Per forza Questo veramente per forza Perché Questo veramente per forza Perché Se abbiamo 0 elementi Non possiamo prendere nessuno Quindi il valore è 0 Ok? Ok Ora Qual è il caso generale? Il caso generale è Ora abbiamo una Una sequenza Piccolina Ok? Abbiamo una sequenza piccolina Abbiamo detto che Vogliamo Dobbiamo prenderne un sottopezzo In qualche modo Ok? Il fatto è questo Noi possiamo Allora Che scelte possiamo fare adesso? Noi abbiamo La nostra Il nostro pezzo di La nostra collana Quella grossa Che dobbiamo quella tagliare Va bene E Dobbiamo cercare Di Prenderne Un pezzo Che ci vogliamo portare a casa Che scelte abbiamo? Qual è L'insieme Delle scelte Che abbiamo? Beh Sicuramente Una scelta Che abbiamo È Prenderla tutto quanto Questa è una scelta Giusto? Prendere tutto È ovviamente Una scelta Ma Quale altre scelte Possiamo fare? Beh Ad esempio Possiamo Prendere Solo due O ad esempio Possiamo prendere Due uno O ad esempio Possiamo prendere Due uno tre O ad esempio Uno tre Ce ne sono veramente tante In realtà Se quindi Facessimo Tutte quante Le scelte possibili Ok Ok Quante sarebbero Queste scelte possibili? Dovremmo mettere Tipo Prendere Prima Questo Poi 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 cosa possiamo fare Partiamo da qua E prendiamo Prima questo Poi questo Poi questo Poi questo Poi questo Poi questo per questo e così via ok questo è l'insieme di tutte quante le scelte possibili quindi o prendiamo tutto ok o prendiamo uno dei sottopezzi contigui in realtà possiamo fare leggermente meglio possiamo levare un po' di scelte per rendere il problema più facile tra virgolette da scrivere e avere comunque la soluzione allora intanto sicuramente possiamo prendere tutto ok questo è questa è assolutamente un'opzione ma ora vi dico questa cosa qua mettiamo ok che abbiamo questo pezzo e facciamo un taglio tagliamo questa cosa in un qualche punto arbitrario beh se noi assumiamo che la sottosequenza di somma massima si trovi da qualche parte qua dentro in questa sottosequenza assumiamo questa cosa mettiamo per finta anzi facciamo quella vera è questa per la cronaca la risposta era questa sicuramente per forza di cose ok se noi facciamo tutti quanti i tagli intermedi i singoli tagli intermedi e ogni volta consideriamo la sottoparte sinistra e la sottoparte destra ok prima o poi per forza di cose dovrà capitare che la sequenza corretta cioè quella della soluzione ottima parte dal taglio che abbiamo fatto ne siete convinti di questa cosa? cioè se noi facciamo tutti quanti i tagli ok se noi tagliamo qua oppure tagliamo qua oppure tagliamo qua oppure tagliamo qua e così via per forza di cose da uno di questi tagli dovrà partire la sequenza ottima ok ma allora ma allora le scelte possono diventare semplicemente o prendo tutto oppure prendo il migliore dei tagli cioè oppure prendo il migliore della domanda fatto su uno di questi tagli ovvero ogni volta taglio e faccio la domanda la stessa domanda sulla parte sinistra e sulla parte destra prima o poi per forza di cose capiterà che farò la domanda anche sulla parte dove da dove parte la parte migliore a sua volta poi questo qua farà una roba ricorsiva e prima o poi capiterà che taglia alla fine della parte migliore perché vi ricordo che ogni volta stiamo prendendo la parte sinistra e la parte destra e ci facciamo le domande su entrambe e quindi prima o poi capiterà che verrà isolata esattamente la parte migliore e a quel punto la domanda cioè a quel punto la risposta di prendo tutto cioè il caso prendo tutto darà la risposta migliore quello salirà come massimo faccio io sto giro perché stiamo il tempo sta finendo poi in caso mi fate le domande allora quindi qual è il caso generale eh sì ho tagliato più del dovuto il caso generale di questa roba qual è sarà quel f di ml ok che sarà il massimo perché noi stiamo cercando quello massimo sarà il massimo tra la somma di tutto perché una scelta è prendere tutto abbiamo detto quindi la somma da facciamo da i uguale a m fino a m più l meno 1 di a di ok questa è la somma di quel pezzo oppure oppure cosa devo fare devo provare tutti quanti i tagli quindi praticamente sto provando a tagliare in quel punto e poi farmi la stessa domanda sui due pezzi che mi sono venuti oppure quindi il massimo perché poi tutti questi tagli prendo quello migliore per i che va da facciamo da 0 a l ok quindi sto provando tutti quanti i tagli dal pre cioè o taglio all'inizio sentiamo che quindi gli elementi sono questi qua 0 1 2 3 o taglio qua 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 eccetera eccetera prendo il massimo ok di farmi la domanda su quei pezzi quindi di f posso fare anche senza tonde di f di parto da m più i i e sarà lungo a questo punto l-i e chiusa e vediamo se riesco a fare ancora il trick dello spostamento sì no ok no trick dello spostamento eccolo qua perfetto e questa è la soluzione calcolo molto velocemente la compensazione anche di qua il primo parametro è il punto di inizio e punti di inizio ce ne possono essere n quindi il primo parametro è una variabilità o grande di n n eccolo qua poi il secondo parametro è la lunghezza e beh questo qua è un sottopezzo quindi la lunghezza deve essere al massimo n anche qua quindi anche questo o grande di n quindi il numero possibile di stati è o grande di n quadro e quanto mi costa sta roba? beh qua c'ho un massimo tra due cose questo è costante qua però ho una somma di al più n elementi quindi questo pezzo mi costa o grande di n qua sto chiamando qua sto facendo il massimo di potenzialmente n elementi quindi anche qua mi costa o grande di n o grande di n più o grande di n fa 2n che è ancora uno grande di n quindi la complessità della transizione di stato è o grande di n e quindi questo algoritmo viene o grande di n cubo so che è stato un po' lasciato questo qua quindi chiedo ci sono domande? sì io avrei una domanda dimmi mi chiedevo se facendo considerando tutti i possibili sotto sequenze e calcolando la somma non venisse comunque una complessità cubica n cubo assolutamente sì sì cioè nel senso se fai questa cosa in modo iterativo ok in modo iterativo cioè perché alla fine nel senso questo è solo l'impalcatura mentale perché poi come la implementi potrebbe benissimo essere anche così una soluzione iterativa a questo problema poteva essere ad esempio faccio un for che mi indica cioè faccio uso sempre questa stessa concezione mentale quindi partenza e lunghezza faccio il primo for che è la partenza un altro for che è la lunghezza e poi dentro un altro for che somma gli elementi di quel pezzo viene la stessa viene sempre cubo in realtà viene esattamente la stessa cosa solo che questo è descritto in maniera ricorsiva e quello invece è fatto in maniera iterativa però è la stessa identica soluzione in questo caso particolare in questo caso particolare ovviamente ma senza dubbio lo ammetto anch'io la soluzione iterativa concettualmente è ordini di grandezza più semplice proprio ordini di grandezza più semplice io vi sto facendo questi problemi qua non tanto per questi problemi qua perché questi problemi qua lo risolvi con 3-4 assolutamente magari già settimana prossima magari già lunedì invece cominceremo a vedere problemi un pochino più spinti e in problemi un pochino più spinti fare una soluzione iterativa diventa parecchio più difficile per esempio anche solo già il problema di Poldo quello precedente che era un problema veramente delle territoriali del 2004 non è scontatissimo si può ovviamente fare in maniera iterativa anche quella ma non è assolutamente scontato come farlo è uno di quei problemi invece che secondo me viene molto più comodo a ragionare in maniera ricorsiva qua invece è un esempio di un problema che in maniera iterativa viene più semplice da ragionare ma ripeto non è tanto non lo stiamo facendo tanto perché poi vogliamo veramente implementare la ricorsione e tutto quanto e la programmazione dinamica per questo problema qua ma è perché vi voglio far vedere vari casi su problemi abbastanza facili di come si applicano le cose che ci sono dette finora della ricorsione bene ci sono altre domande io volevo chiedere se la funzione non si potesse semplificare evitando che il numero iniziale sia minore di zero non ho capito cioè nel senso se il numero di inizio della sequenza è minore di zero allora lo saltiamo a prescindere sì in realtà questa è una buona osservazione per carità non migliora la compilità sintotica così detta solo così però sì un'ottima osservazione che in realtà molti di questi problemi che vi sto dicendo noi non stiamo trovando una soluzione ottima perché per esempio poldo noi abbiamo trovato una soluzione che era quadratica se non mi ricordo male esiste una soluzione n o n questo addirittura ha una soluzione lineare ha una soluzione grande di n però stiamo solo imparando a modellare le cose però non ci interessa e in realtà alle territoriali non ci interessa avere proprio una soluzione ottima ottima comunque sì ottima osservazione se la sequenza parte con degli elementi negativi non ci interessano non ci sarà mai una soluzione in cui ci interessano quegli elementi negativi all'inizio o alla fine anche in realtà quindi sì questa è una buona osservazione che è una soluzione Grazie.